Per essere venuto in trasmissione, naturalmente io vorrei che Luca Ward fosse ospite fisso di questo momento, parole, parole, parole all'interno di Music Quiz, perché insomma tu con la tua voce, con il tuo carisma, con la tua bravura, qualsiasi testo, poi ragazzi le donne ti guardavano, tu sei un bell'uomo, ma ti guardavano e vedevano mezzo Luca Ward e mezzo Russell Crowe, pensa che fortuna che ha! Il fascino dell'idraulico! Pensate che lui con questa voce, con la voce di Russell Crowe potrebbe in qualche maniera leggere qualsiasi cosa, non ci credete? Se noi mettiamo la musica del gladiatore che abbiamo visto tutti dieci volte, chiudiamo gli occhi e immaginiamo Massimo Decimo Meridio che ci dice questo, ed è lui, silenzio! Donne, è arrivato l'arrotino, arrota coltelli, forbici, forbicine, coltelli da prosciutto Donne, è arrivato l'arrotino e l'ombrellaio, aggiustiamo gli ombrelli, ripariamo cucine a gasse, abbiamo i pezzi di ricambio per le vostre cucine a gasse, se avete perdite di gasse, noi le aggiustiamo, se la vostra cucina fa fumo, noi togliamo il fumo dalla vostra cucina a gasse, donne, è arrivato l'arrotino, mi chiamo Massimo Decimo Meridio, arroto forbici, forbicette e forbicine e se mi gira ti arroto anche l'alimenta per le unghie! Io pensi che combatterei! Luca Wurden! Ci vediamo a venesi prossimo! Alla prossima! A venesi prossima!